ciao ragazzi ed eccoci nuovamente finalmente sono tornato primo video del 2024 è che ragazzi aspettavo qualche televisore in più ma non ne sono arrivati quest'anno con i televisori è andata un po così va bene allora cosa che volevo dire allora cosa importantissima che non è da poco per questo weekend c'è in atto un super prezzo sul sito di pasotti store ok in caso di dubbio potete anche contattare senza nessun problema allora badate bene rizzate bene orecchie perché una roba così non si è mai vista anche su soprattutto su prodotti nuovi arrivati da poco mz 1500 65 pollici 2050 euro e potete anche fare con di questi 2050 euro potete anche dilazionarli in 24 mesi senza interessi e poi un altro modello mz 2065 pollici a 3350 euro anche questo si può dilazionare a 24 mesi è un'occasione soprattutto mz 1500 65 pollici che ricordo ha battuto durante i se volete potete andare a vedere questo video ha battuto la mz 1500 anche l'lz 2000 dello scorso anno e ricordo anche a tutti perché c'è anche un po di dubbi che la mz 1500 non è una fascia media assolutamente è una fascia alta di panasonic ok questo è importante dirlo ragazzi perché mentre gli altri marchi hanno una vera e propria fascia media panasonic fa il televisore la serie 2000 per i top top ma la mz 1500 non è assolutamente una fascia media è un super prezzo solo per questo weekend prodotti disponibili luigi vi può spedire serenamente in qualsiasi parte d'italia basta che lo contattate lui come sempre trasporto lo fa in assicurata su bancale reggettato state tranquilli state sereni però ragazzi lo dico sempre il nostro canale fatto così c'è un negozio che ci segue da tempo ormai da oltre tre anni e se fa dei prezzi sono il primo ad avvisare ho appena avvisato qualche minuto fa anche il nostro canale facebook passione audio video che voglio ringraziare anche tutti gli iscritti di facebook perché ragazzi siamo arrivati abbiamo oltrepassato i 6.000 iscritti quindi veramente tanta 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 roba volevo avvisare anche sul canale youtube o non dimenticatevi il canale iscrivetevi anche qua mi raccomando ci vedremo alla prossima prossimi video ci saranno degli aggiornamenti rimanete sintonizzati anche perché a breve faremo una live e ricominceremo anche perché come live ragazzi è quasi un anno che siamo fermi quindi aspettavamo un attimo di capire i marchi cosa propongono e poi una volta chiarite bene tutte le idee ritorneremo in live e poi spesso vedrete che ricominceremo a tornare con questo è tutto ciao un abbraccio a tutti ciao ragazzi ciao 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 ciao